Ci siamo attivati per cercare di risolvere il problema. Questo io non è che voglio allungarvi perché nel comunicato che tutti avete c'è anche specificatamente quello anche perché chiedevamo un intervento anche a livello nazionale perché oggi un giovane che inizia l'attività come fa con tutti i problemi che arrivano appena si iscrive alla Camera di Commercio arrivano le richieste di pagamento dell'Inps, dell'Inail c'è anche la Camera di Commercio con la sua quota ma deve anche pagare anticipatamente quello che ancora deve fare perché le tasse si pagano anticipatamente l'accomodo. Quindi com'è possibile che uno possa iniziare oggi un'attività? Quindi chiediamo al Governo di intervenire come ha fatto nel passato di esentare per i primi 3-5 anni i giovani che iniziano l'attività.